c'è ragazze questo è il mini album che presenterò domani al meeting sardegna è un album che ho voluto fare a tema invernale utilizzando le carte winter song di les papiers de pandore sarebbero queste le trovate da obiland fantasia e creatività mi sono piaciute molto e alla fine ho deciso di usarle oltre a quelle carte ho utilizzato un cartoncino glitter color oro chiaro e poi del bazil color acqua queste sono degli schizzi di merlino rosa di moda scrap all'interno troviamo una tripla cornice che chiusa sia sopra che sotto e poi qua un piccolo cofanetto che contiene un mini album ad anelli ho messo sia foto sopra il vellum che sopra il cartoncino con le carte pattern ed qui abbiamo una fustellata sul vellum con i fiochi di neve qui ho lasciato la pagina bianca proprio per lasciare comunque la pagina pulita ok ok qui si può aggiungere una tag con una dedica e finisce con questa immagine spero vi sia piaciuto io mi sono divertita tanto a farlo infatti ho voluto poi provare anche a fare la versione primaverile dello stesso album utilizzando l'ecopelle ed è questa qui devo ancora inserire le foto perché non ne avevo disponibili quindi si vede proprio che la cornice ancora da finire è abbassata perché una volta che si chiude poi la parte alta si tira un po su e dall'altra parte abbiamo invece un mini album simile a quello invernale questo si può estrarre si può tirare su qui sempre una costellata in vellum ho lasciato questo lato in alto aperto in modo da poter inserire poi la foto è tutto spero vi sia piaciuto e grazie per aver per aver guardato il video ciao ciao